...e l'italiano, la buona notizia, pigina di Sant'Egiglio, ecco dai, tira fuori il biglietto... ...e nel frattempo annusiamo questa stupenda sbafagna di pesce... ...e abbiamo invece adesso un'altra Federica di Sant'Eurosia... ...dai Nicolás, bravo Nicolás... ...poi c'è Fernando di Borrano... ...eccolo qui... ...invece Alessio di Villa Marchesa, penso che si dica così... ...grazie... ...andiamo avanti e siamo Angelo di Folignano... ...dai, pesca, pesca, pesca... ...e invece proseguiamo con Pietro di Sant'Egiglio... ...sì... ...continuiamo a girare... ...se non vedremo più... ...è di Sant'Eurosia... ...ci sta? Non ci sta? No, non c'è... ...e poi, proseguendo, abbiamo... ...Mattia di Rocche di Civitella... ...Maria Santissima dei Lumi... ...prossimo... ...è il vincitore... ...a meno che non esca un'altra volta... ...Santa Maria dei Lumi... ...Giustamente... ...gira il quadro... ...Vricina... ...per capirci... ...eh... ...no... ...se non traduci in italiano... ...quan si capisce niente... ...con la E... ...Vricina... ...giustamente... ...grazie della correzione... ...perché... ...l'Accademia della Cruz... ...allora abbiamo il vincitore del quadro... ...la preedizione della Madonna... ...con... ...Vincenzo... ...di Faraone... ...un applauso grandioso... ...polgorante... ...bravi... ...bravi... ...grazie... ...grazie... ...che la Madonna benedica il vincitore del quadro... ...ma tutti noi... ...e proseguiamo la serata... ...augurando che non piova... ...con il grandioso spettacolo di Tony Esposito... ...buona serata... ...è...